Anche durante il fine settimana di Ferragosto sono continuati controlli per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti. I carabinieri hanno infatti sequestrato circa 45 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana e 5 grammi di chetamina. Una 22enne della Valnure, un 29enne Ligure e un 45enne Pavese sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 20 complessivamente le persone segnalate alla prefettura come assuntori. Un 18enne originario di El Salvador è stato invece denunciato per porto abusivo di armi in quanto trovato in possesso di un coltello munito di lama della misura di 9 cm, nascosto all'interno di un marsuppio. Inoltre i militari hanno denunciato per il reato di porto di Arnesi, atto e lo scasso, due uomini di nazionalità romena sorpresi nella notte mentre si aggiravano in automobile per il centro di Rivergaro. Visto l'atteggiamento sospetto dei due e l'inconsueta andatura del veicolo, i carabinieri hanno immediatamente dato corso a controlli più accurati grazie ai quali hanno potuto rinvenire all'interno dell'abitacolo diverse arnesi idonei proprio allo scasso che i due avrebbero verosimilmente potuto usare per mettere a segno furti in abitazione. Grazie a tutti.